a poche ore dalla notizia della morte di Di Mare è arrivata una nota dell'avvocato Ezio Bonanni presidente dell'osservatorio nazionale Amianto che ha parlato delle prossime azioni da intraprendere come osservatorio nazionale Amianto chiederemo al procuratore di Roma che venga fatta piena luce e giustizia sulla morte inaccettabile e ingiussa di Franco Di Mare anche per il trattamento ricevuto dalla RAI che lui stesso ha denunciato Bonanni ha quindi aggiunto come osservatorio proseguiremo la battaglia di giustizia e raccogliamo il testimone dell'impegno di Franco Di Mare contro l'Amianto sono reati perseguibili d'ufficio e come associazione siamo pronti a costituirci come parti offese chiederemo che i responsabili della morte di Di Mare siano individuati e puniti ha concluso Bonanni 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 Bonanni